Sì, hai visto ieri qualsiasi passava? Sì, hai capito! Io faccio un premanutino di Maldi Mi pregherò... Smile! Aspetta che non riesco a prendere Eros Ramazzotti Giusto! Eros Ramazzotti Perfetto tour Oh! Oh! Ah sì, scusa! Perfetto tour 2015-2016 Giusto! Cosa ne pensa lei di questo concerto? Che si sta per vedere? E' entusiasta di questo concerto? Moltissimo! Guarda che entusiasmo! Entusiasmo alle stelle! Mamma, ragazzi, non ho parole Cin, sei, Anni, santo Andaremo Se, sei, sei, giorni Wow! 10 metri Un centimetro Un centimetro Alla volta Però noi siamo carichi Siamo super carichi Troppo carichi Niente Niente, non volevo guardare Un secondo Ci dia la sua attenzione Ci dia la sua attenzione Intanto, la batteria dura Iphone 4L Sempre Sì, arriverà il momento che me lo cambierò anche io 570 529€ 529€ 530€ 529€ Qualcuna E' vabbè E' vabbè E呃, la cediamo qui E' vabbè E' vabbè E' vabbè